Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, Fortbyte numero 100! Anche oggi, dopo pochissimi minuti dall'arrivo del Fortbyte, si trova nel piano più alto dell'edificio più alto di Neo Inclinata. Come vedete, l'edificio ragazzi è quello con il logo del DURBURGER, mi stanno già sparando, ma il Fortbyte ragazzi si trova, vi faccio vedere anche se a me mi hanno chillato, esattamente qua, nell'angolino. E come state vedendo ragazzi, molto molto semplice, nella parte più alta lo potrete prendere. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo tra poco in live, ciao! Grazie a tutti!